Lorenzo Brambilla, responsabile Consumer Health di IMS, voi qua presentate la fotografia del comparto dei farmaci OTC di automedicazione e l'opinione dei farmacisti per questa categoria di prodotti. In sostanza qual è la situazione? Il mercato dei farmaci OTC è un mercato in sofferenza da anni, però potrebbe essere visto in un ambito più ampio con anche la parte dei non notificati, quindi tutta l'area degli integratori farmaceutici e comunque c'è qualche spiraglio di miglioramento di quello che può essere un approccio migliore anche col supporto dei farmacisti a quello che è il comparto dei farmaci di autocura intesi come automedicazione più soltanto. A questo riguardo il comportamento meglio percepito che ha il farmacista di questa specifica area è di una quasi richiesta plafonata e quindi l'obiettivo è quello di individuare quelle che possono essere delle leve per migliorare questa situazione che possono essere ricondotte a un maggiore traffico in farmacia sulla richiesta di questi prodotti, quindi un consiglio, un suggerimento sempre più importante da parte del farmacista, visto che parliamo di prodotti di libera renda ma che sono comunque farmaci. Quindi di fatto è un'area in cui il farmacista potrebbe fare ancora meglio e l'obiettivo è quello di dare qualche spunto per le aziende in particolare per fare in modo tale che questo comparto possa essere gestito ancora meglio rispetto a quanto lo è adesso, quindi quali sono le aree di potenziale sviluppo.